Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Non devi più cercare, non si può andare oltre questa bellissima casa. Questa casa invitante è composta da cucina contemporanea eccezionalmente fornita con elettrodomestici di prima qualità. Gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia. Questa proprietà è veramente rimarchevole. Contattarci per ulteriori informazioni.